Forma coscienza. Perché il contatto con i piani superiori di esistenza ha iniziato a dipanarsi in maniera organizzata, da Kardec in poi e non prima e non dopo, ma nel periodo storico che alcuni maestri chiamano sesta età? Commento. Perché quel periodo storico è stato emanato dalla stessa forma coscienza che ha emanato l'evento chiamato rivoluzione francese? La forma coscienza è l'insieme delle esigenze evolutive che l'umanità incarnata ha di vivere determinati eventi che l'uomo chiama storici. La rivoluzione francese è stata emanata dalla forma coscienza che segna la linea di spartiacque tra la fine di un periodo evolutivo dell'umanità e l'inizio di un altro. Questo evento politico e sociale abbatté in Francia l'ordinamento feudale e la monarchia assoluta e creò i presupposti dello stato democratico moderno. Inoltre provocò certi accadimenti intimi e collettivi che hanno favorito il fenomeno che agli inizi è stato chiamato spiritismo.